Ragazzi è una cosa allucinante questo periodo con questi dibattiti dei politici per le elezioni cioè sembra di tornare indietro i cento anni, dicono sempre le stesse stronzate Berlusconi che continua a parlare che tira via l'Imu Bersani che non si è capito dove va a parare ogni tanto Perché non tiri fuori i coglioni? Perché non tirate fuori i coglioni e fate delle proposte serie? Siete gli stessi che avete rovinato sto paese Rispetto al 2008 ci sono 18 liste in più questa volta Ma cercarvi un cazzo di lavoro, no eh, è troppo comodo fare un cazzo Però la gente che è a casa disperata, che non sa come portare da mangiare ai propri figli Di questo non me ne porto un cazzo